Due podisti amatori che sfidano le lunghe distanze, correndo davvero velocemente per 100 km, uno che è arrivato addirittura sul podio, l'altro che invece ha solo l'obiettivo di finirla. Questo è il racconto comunque del passatore e come al solito partiamo dall'inizio. Allora ragazzi, partenza intelligente, assolutamente da non fare come la mia, sono le 6 di mattina, si parte direttamente per il passatore. Arriverò a Lula a Firenze, quindi ho due ore di tempo per capire la situazione e quindi puoi partire per 100 km. Vediamo un po', veramente questa volta sto sfidando la sorte, speriamo che il treno non faccia di tanto. Eccoci, ci stiamo avvicinando alla piazza del Duomo, in ciabatte, andrà in bici, papà che ci accompagna, in polleggio. Per adesso dai, il tempo è buono, questa è l'importante, almeno come facevamo nel ciclismo, almeno partire con l'asciutto fa già la differenza. E poi dopo, se si ferma l'acqua durante, è un'altra cosa. La affrontiamo. La affrontiamo. Ma dopo. Appena arrivata alla stazione di Firenze, ragazzi, puntuale, il treno è stato puntuale, che mi so due ore di tempo per cambiare, mangiare e partire. Ce la faremo? Ah, devo ancora incontrare anche gli amici miei, che mi devono dare il vettorale. Si può fare, si può fare. Eccoci qua, gli amici li abbiamo trovati. Siamo qui già pronti dove si parte. Ecco. Niente, adesso andiamo a baciare. Qua ci sono più importante, se magna. Qua si sta scaldando l'ambiente, ragazzi. Falcano 20 minuti. No, sì, 20 minuti alla partenza. E finalmente, oltre a quella, finalmente si torna a fare il passatore, ragazzi. C'è più o meno, eh? Vabbè, con caldo. Non è stato fatto, molto caldo. No, ci sono stati, eh. Siamo piaciuti. Siamo così, no. Claudio! Un grande, un grande, lui è il passatore, ragazzi. Siamo qui al quinto chilometro, primo ristoro, per adesso tutto bene, per fortuna c'è qualche nuvola. Questa cosa mi piace, sperando solamente, sperando solamente che non più. Sì, 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 sì. Ripreso da poco a conel, ma proprio da poco a poco. Questo per farvi vedere che siamo arrivati a... Ah, se abbiamo superato. Yes or no? Allora, salite le abbiamo trovate, ma questo lo sapevamo, quindi era preventivato. Poi stiamo... Un'ora e venticinque. Eccoli! Stiamo andando... Non la metto, tranquilli. Ah, sta attuonando, ragazzi, ahia. Guardate che tempo ci aspetta, eh? E come? Fala di tenere, cosa non mi ricorda. Vedi, andar piano, la tecnica... Allora, la becchiamo? O non la becchiamo, se la pioggia? Cattello nel decimo chilometro. Oh, 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 ecco qua. E via! Anche al passatore abbiamo tantissimi amici. Grandi! E la prima volta, anzi, è la prima passatore, assolutamente sì. È la prima volta, dai, dai, si arriva, si arriva, pian piano, pian piano, arriviamo dappertutto. Perfetto. Con lontale. Ciao, piante. Ciao, grandissimo. Vai, David. Allora, siamo arrivati al ristoro del tredicesimo chilometro. Siamo abbastanza lucidi. Questa cosa è buona, il sole se n'è andato, per fortuna. E per adesso la pioggia non ci ha beccato, quindi... E adesso mangichiamo qualche cosa. Eh? Tutti affamati, stanno tutti affamati, io fai giù di loro. Vamos! Visto che noi siamo degli atleti pro... Professionisti. Sì, 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 stiamo prendendo un attimo di pausa per mangiare... Gli orsetti frizzanti, ragazzi. I coccodrilli frizzati. I coccodrilli, eh. Cioè, sono dedicati. Ma la risulta di questi coccodrilli, fissimi di zucca. Ci sono ristori importanti, danno il turbo. Sì, sì, sì. Dopodichè riprendiamo a correre. Mamma mia, che buona. Altro che gel. Ricominciamo, eh? Allora, ci siamo ragazzi, siamo arrivati al primo cancello. Corri solo, ok, ci siamo. Uh, al diciassettesimo chilometro. Dai, possiamo dire che anche Fiesole è andata. Anche se stiamo correndo a stile bradipo, proprio, ma lento, lento, lento. E siamo arrivati al trentesimo chilometro. E adesso mettiamo il bollino. Quattimino che siamo arrivati. Al trentesimo non c'è niente, c'è niente al trentesimo. Ce l'abbiamo, ma si fa male. Ecco qua. Bene. Continuiamo con il suo coppio, ragazzi. Dai, chi sono facciato, dai. Dai. Al trentesimo. Eccolo là. Ti penso sempre ai tortellini. Ai tortellini, ragazzi. Sì, è un po' più lunga. Per sicuri ne prenderemo almeno tre, ma ce la faremo. Allora, se aspettate e arrivate almeno fino al cinquantesimo chilometro al passo della colla, ci sarà una sorpresa enorme, ragazzi. È enorme. Ecco la deviazione. Eccoci qua. Non si molla. Siamo Borgo San Lorenzo. Quindi abbiamo superato. Adesso inizia la lunga e lenta salita fino al passo della colla, ragazzi. È dura. È dura, però. Dobbiamo tenere un buon passo. Almeno vediamo un po' se possiamo tenere 10 al chilometro. Perché per correre è sicuro che non la corriamo. Vediamo un po'. Dai. Siamo al quarantunesimo e incomincia il momento dello sclero. Siamo pronti? A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U. Y, A, E, I, O, U. Y, A, E, Y. allora ragazzi vi ricordate che abbiamo promesso la sorpresa al passo della colla appena sono arrivato al passo della colla sono entrata di potermia non so se il termine giusto però è più o meno quello sono stato un'ora e mezza a tremare la fredda i valori non erano buoni quindi la dottoressa mi ha questa volta placato perché la prima volta che ho fatto il passatore sono riuscito a sgattaiolare ma questa volta effettivamente non potevo muovi perché tremavo tantissimo e quindi dove forza per guardi ho preso la medaglia quella eccola qua quella d'argento perché comunque ci sono tre tre medaglie quella di bronzo d'argento e quella dove la cento di nove e poi niente ragazzi e questa è il passatore prima di tutto la sicurezza e capire se vale la pena o no continuare altrimenti ti temare poi che abbiamo confuso io voglio fare tantissime gare voglio divertirmi sempre come faccio e quindi ragazzi meglio così la prossima il bello di questo sport è che vinciamo sempre tutti oh 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 Un pezzo vero, un pezzo vero! C'è il pezzo vero! C'è il pezzo vero? E' un pezzo vero! Grazie a tutti.